Il canto della promessa scout ha riempito il santuario dell'incoronata, ultimo atto di una due giorni che ha visto il gruppo a Gesci Foggia 1 della parrocchia San Michele impegnato nella giornata del pensiero che si celebra ogni anno il 22 febbraio. Un'occasione per sensibilizzare lupetti e lupette, esploratori, guide e comunità dell'associazione guide scout cattolici italiani sui temi ambientali come l'importanza della raccolta differenziata, del ciclo dei rifiuti, della biodiversità, del risparmio dell'acqua su ogni più piccolo gesto che ciascuno di noi può compiere per salvaguardare il nostro ecosistema. Abbiamo festeggiato la commemorazione del compleanno di Baden Powell, fondatore dello scoutismo, e il tema della giornata del pensiero su cui abbiamo riflettuto è stato quello dell'ecologia e salvaguardia dell'ambiente, ha sottolineato Gaspar Menduni, capogruppo del Foggia 1. Ci siamo resi conto che alcune nostre abitudini di vita vanno cambiate ed è importante capire come le nostre azioni quotidiane impattano sull'ecologia e ambiente, dunque sulle generazioni future. All'incontro è intervenuta anche la sindaca e episcopo, vogliamo incidere e ascoltare anche le proteste di voi più piccoli perché voi potete essere di esempio per noi adulti o rimproverarci quando facciamo qualcosa di sbagliato. Siete il futuro delle nostre speranze e potete vigilare insieme a noi per costruire una città dei diritti, ha sottolineato la prima cittadina.